buongiorno a tutti cari amici delle stilografiche oggi vi vorrei fare una recensione di questa penna si tratta di una parker scusatemi ecco a fuoco questa è una parker im con una di una che fa parte di una serie particolare cosiddetta metal color ring legata al fatto che si tratta di una serie di penne in cui tutta la stilografica e color nero brunito con la sola eccezione del eccolo qui lo mettiamo a fuoco della veretta che presenta un colori sgargianti metallici io questa l'ho presa color blu azzurro quindi le uniche parti che non sono nere di questa penna sono per l'appunto l'anello della veretta e quest'altro piccolo anellino in corrispondenza del dell'innesto a baionetta e dell'innesto della penna quindi sono delle penne che potremmo definire delle total black all black come fossero neo zelandesi la serie im di parker è ovviamente la serie che viene un poco ecco subito dopo rispetto alla jotter in quanto a prezzo a stila a fascia di costo quindi si tratta di delle penne che si per uso le potrei definire anche scolastiche ecco però sono un leggero upgrade rispetto rispetto alla jotter e se o mi è venuta ecco voglia di parlarvi di questa penna che ho preso credo un mesetto fa e perché voi penso ricordate sapete bene come personalmente non è che ami le parker moderne anzi forse qua quasi arrivo di arle ma questo modello recente potrebbe rappresentare ecco un'eccezione una gradevole eccezione al alla regola in primo luogo per lo stile è qualcosa di misurato e allo stesso tempo elegante lo stile con il clip tutto quanto annerito con la sola variazione del tema legata al colore del della della veretta in secondo luogo il il peso il bilanciamento vi dirò che si tratta di una penna poi lo vedremo molto ben bilanciata a fatto però sempre per quel che mi riguarda di utilizzarla senza cappuccio calzato se infatti cerco di calzare il cappuccio sento che il peso tende un po troppo a farla scivolare all'indietro ma senza cappuccio calzato veramente ottima veramente ben bilanciata nonostante si tratti comunque vedete in una penna il cui corpo è in metallo sicuramente non è penso dal tatto dell'impressione tattile che sia acciaio un acciaio lievemente matte come finitura vedete non è un acciaio perfettamente lucido riflette poco la luce ma assolutamente gradevole la penna come avete visto ha delle caratteristiche principali di qualunque parker compresa la clip brunita a freccia si apre con meccanismo sentita a pressione e questo il rumore della chiusura ha l'impugnatura sempre nera però non presente la satinatura del corpo questo è un nero più lucido e in estremità sulle estremità dell'impugnatura vedete vi è questo anello che richiama lo stesso colore del pennino brunito che attenzione è un pennino che è diverso da quello jotter è un pennino con le spalle più larghe e un poco più tozzo più corto quindi non è non è molto lanciolato non è non ha l'aspetto ecco aerodinomico se vogliamo così dire di tanti altri pennini mentre invece l'alimentatore a me pare esattamente lo stesso alimentatore in plastica che viene montato sulla jotter e in questo incavo via anche la dimensione del pennino si tratta di in questo caso un pennino f l'ho preso solo f perché era l'unico che veniva venduto credo di averla presa questa su amazon il pennino come detto è un pennino brunito e perché incisa la scritta parker e queste tre linee che simulano la freccia per il resto se l'apro è una penna con caricamento classico cartuccia converter il converter non era incluso utilizzato un altro che avevo io in più per quanto riguarda invece le dimensioni vediamola ecco paragone con qualche altra penna dunque vi ho portato ad esempio assolutamente sovrapponibile direi con una platinum questa non la preppi scusatemi la plaisir e poi una lame all star vedete poco più corta qualche bene un poco più diciamo di fascia superiore abbiamo una platinum centuri 36 3776 con pochi di luce è una enorme 149 di montblanc e poi ho una questione a leonardo officine italiana furore quindi rimaniamo su penne di dimensione media direi ok per la prova di scrittura ovviamente io ho con me la questo quaderno solito che utilizzo di carta claire fontaine vediamo un attimo allora come detto si tratta di una parker im color rings con penino a fine l'inchiostro con cui sto scrivendo è un nodlers un blu nodlers la culer come vedete per dimensione del tratto si tratta di un un pennino effettivamente fine forse quasi un'extrafine cioè se lo confronto con un fine che so tedesco un fine pelican questo addirittura è un'extrafine il flusso non è molto abbondante quindi è una penna che butta via poco inchiostro probabilmente questo è dovuto anche alla stessa brunitura della penna che vi dirò come la maggior parte delle bruniture tende un poco a frenare la manovra con cui cerco di scrivere non è che sia non è un pennino over polish ovviamente tutt'altro ma non è neanche graffiante il rumore un poco lo sentite quindi un po più di feedback direi che ve lo dà ma come dicevo l'impressione che sia un tratto un po più frenato su questa carta che scivola di più questa impressione di è meno accentuata e meno accentuata ovviamente però ovviamente se prendo un'altra carta adesso lo farò oggi voglio cambiare qualcosina questa impressione ce l'ho un poco di più pennino è assolutamente rigido vedete non c'è niente di niente di variazione di tratto e per l'appunto stavolta ho voluto prendere una seconda seconda categoria di carta questo un tappino che ormai non non ho più però è una carta più comune di tutti i giorni meno levigata si sente al tatto quindi questa dovrebbe offrire un poco più di resistenza alla scrittura e oltretutto è un tipo di carta che accentua i fenomeni di build throw quindi di spiumaggio e di passaggio dell'inchiostro attraverso la carta per cui stavolta la voglio provare anche su questa carta ovviamente la differenza si sente il flusso sembra minore perché questa carta tende ad assorbire più velocemente l'inchiostro questo è il motivo per cui può darvi qualche problema tipo appunto di build throw vediamolo un poco da vicino allora questo tipo di penna con pennino fine e come dire flusso ridotto più parco è in realtà l'ideale proprio per questo tipo di carte di tutti i giorni perché vedete se ne analizzo di da vicino il tratto rimane consistente non da nessun tipo di spiumaggio e se vado sul retro se vado sul retro però ecco un poco l'inchiostro trapassa quindi cosa che ovviamente non avviene con questo tipo di carta il retro è quasi perfetto passa solo un poco vedete qui dove ho spinto un poco spinto con la carta bene e adesso chiudiamo con la nostra la prova di scrittura con la solita citazione e adesso chiudiamo con la nostra 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 la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è un breve brano, una poesia di Charles Bukowski. Eccolo qui. Poeta si potrebbe dire un moderno maledetto. Ovviamente lo dico con una certa vena di polemica, nel senso che purtroppo il tritacarne del nostro mondo, del nuovo consumismo, ha trasformato un grande poeta un po' in un simbolo a cuor leggero da svendere a quattro soldi e piazzare con una certa faciloneria un po' ovunque. Ecco, tanto sapete come si fa, si cita Bukowski per darsi un po' con tono. Eh, va bene, ho aperto e chiusa questa breve parentesi letteraria polemica. Io ho concluso, spero che vi sia piaciuta questa dimostrazione di penna. A me è piaciuta, anche perché è piaciuta la penna una volta tanto, direi che Parker l'ha imbroccata, secondo me. Per cui è una penna che ho utilizzato e utilizzerò anche parecchio per come fascia, secondo me è una buona fascia da utilizzare, che so, tutti i giorni al lavoro. In particolare quando abbiamo a che fare con carte, ecco, di poco valore, che non esaltano molto le capacità di un inchiostro o di una stilografica. Ok? Bene, se vi è piaciuto il video ovviamente mettete un mi piace, mettete un mi piace anche se non vi è piaciuto il video. Giusto per supportarci, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Un saluto a tutti! Grazie!